Andiamo? Battle Royale Soldato indica un punto di lancio per il team Evitate il gas Andate alla zona struttura A Yangar? No, no, qua Qua dove? Ah, sì, sì, ho capito, scusami Ma la mappa si andava I silos, eh Oh, un uzi Da sotto a sotto, magari Oh, cazza di corazza, eh, c'ho ragazzi Ottimo, ottimo Ci siete? Sì Vogliamo provare a intrufolarci nello scontro Vado Vado Stavolo qua Qua dove? Aspetta, ci puoi fare Sì, dove? Fabio, ce n'è uno pure nel palazzo che ti può mirare Attenzione Teniamo sotto controllo il palazzo Perché ce n'è uno che ora si andrà a facciare No, che toccato Ah, raga, io ho fatto la mozza Attenzione Fabio che ce n'era uno Guarda qua, attenzione 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 Ignorate Eccolo C'era un altro sul tetto pure Mi sono matto No, sul tetto là L'ho pingato Pittato Peppe, spara, 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 spara Sto salendo giro Oh, ce n'è un altro che mi ha fulminato Da dove? No, dal palazzo qua di fianco Dietro di te, Pasquale Ancora è andata, c'è G Squa, terra in zona Ha rotto la mina Sta qua fuori, sta prendendo Entra dentro Eccolo Volta la corazza Vai, Gigi, vai Sta dentro Vai in puntamento Gigi, entra in puntamento Senti a me A terra Grande, Gigi Prendite le corazze Mettitele subito Vai nella stanzetta Che così sei al riparo Ragazzi, ce n'è uno fuori Sì, raga, da terra Ve l'ho pingato Ok Passa e scende da voi Sì Sì Ho riuscito pure a rianimare a me Quando la situazione è tranquilla Aspetta, lo squasta, gente Sì, sì Hanno rianimato uno, infatti Eh, vabbè, dobbiamo aspettare perché stanno le persone Lo squalzi, tu a Peppe e lei chiamami il lancio col resto Sì Sì Aspettavo da una maggiore Passi in giro No, io amo a B, giochiamo più al lancio No, Andrea Sono già full team Oggi gioco con il team Martedì Allora, io ho avvio, io ho bombardamento Io ho avvio, ho preso Alza, Peppe tu, Pasqua Ah, non ne ho avviato, Peppe No, nessuno Mi ha Stagendo da nostra destra Sui palazzi Stagendo qua Quindi, aggiriamo per di qua Ci stanno donnavando qua Eh, io mi sono buttato su hospital A terra, con la bomba Due a terra Ah, lo volevo fare, dove? Uno sta nella casetta Sta nella casetta Sta uscito, uscito, uscito Entrambi confermati, entrambi confermati Dove caccio, mi sparano, madonna Nella casetta, questa qua No, grazie Siete tutti morti? Pasqua, perché non ti avvicini a me se riesci O devo venire io incontro a te Rischiando con la safe No, Pasqua, vattene verso Peppe Così, in caso, fate rianimare qualcuno Gigi, vedi dove stai? Ma, ah, io c'ho il negozio qua vicino Raga, ditemi se devo rianimare qualcuno a voi Eh, a te, a Fabio ti rianimiamo Ok, provo ad andare sul negozio Ok, sto tornando Ragazzi, ero su sto sciagando No, 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 no C'è pure l'elicottero qua All'ultime Ultime gru Sì, sì No, allora lanciamoci Ci stanno sparando Perché non ci lanciamo No, no, no Ah, qua è tutto lutato Raga, raga C'era uno fermo qua davanti a noi L'hai ucciso? L'hai fatto Sì, ma era immobile Non si muoveva E forse non se l'aspettava che arrivassi tu là Andiamo a quello shop là in fondo a destra Che coppiamo nuovi Come siete vesti voi a colpi? Io ne ho 100 in canna Stanno venendo qua, eh Io ne ho 3, raga Io ne ho 30 e 30 Se qualcuno mi dà 30 colpi di fucile d'assalto Eccoli È una corazza qui Sì Oh, li sparo? Lì ce l'ho sottomira Uno si è lanciato L'ho hitato parecchio Uno è crackato Uno è crackato, ragazzi Oh, stanno adesso a me Sì, ho buttato Come gli animali Ma che è? L'RPG Non li vedo Una a terra Un'altra a terra Doppio uccisione Oh, danni collaterale Gli animali ha messo Spiatevi i soldi Ma qua, ho dappeto i soldi Ma no, collaterale Papa C'è pure la maschera Attenzione a quel pallino rosso Che sta avvicinando da qua Sali un po' dei polli queste Sì Sì Hanno pollato un po' L'UAB che lancio subito Agnizioni alle mie coordinate Si sta avvicinando qualcuno Ragazzi, devo mettere in sicurezza Di nuovo dove stanno Fammi vedere poche armi Nemico in discesa Nemico in discesa Aspetta, fai, fai, fai Ha rianimato l'amico È morto? Sì Te l'ho confermato io Ma ha rianimato l'amico Che ora scenderà Di qua Verso prison Non sono andati comunque Ma ha fatto in due secondi Chi l'ha rianimato Ma miseria Ah, è appena sceso È chiuso il paracaduto E l'ha rianimato Oh, sta uno a fianco a me Fermi Oh, mi sto sparando Ma ha fatto Dov'è? Davanti al camion Dove c'è il negozio 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 Fabio Mi stanno addosso No, la maleditta maschera Del cacchio Guarda se la maschera Bombardamento di precisione nemico Arriba Continuo Vabbè, continuo Sì Davanti a voi, raga Davanti a te, Fabio Vai Giustamente Una terra No, dai Non mi puoi colpire da là Eh, come fai a colpirmi? C'è la cunetta Ma dai Guarda Ma come Ma dai Ma non è vero Ma come cambiano le prospettive Però come mi fa arrabbiare Mamma mia Buona bella partita Eh